Il decimo congresso dei mutilati, inaugurato dal duce nella casa madre di Roma, nel ventesimo annuale della fondazione dell'associazione. L'omaggio alla tomba del milite ignoto dei 300 delegati delle sezioni italiane e dei 15 delle sezioni costituite all'estero partecipanti al congresso, con a capo il presidente dell'associazione onorevole del Croix.